buona giornata amici da massimo foghetti ben trovati alla rassegna stampa di fano tv vedremo nei giornali questa mattina come due notizie risaltano in modo particolare sono notizie contrastanti ovvero ciò che sta accadendo in Ucraina e le ripercussioni anche nel nostro territorio e vedremo d'altra parte anche la fine delle manifestazioni del carnevale due notizie antitetiche che comunque fanno parte della quotidianità dei nostri giorni iniziamo la nostra rassegna stampa a partire dal santo del giorno non è un santo oggi ma oggi si festeggia diciamo non è il termine esatto oggi è una ricorrenza ovvero le ceneri intanto vediamo che il sole sorge alle 6 e 42 e tramonterà alle 17 e 58 una giornata che dovrebbe essere buona dal punto di vista del tempo ma una giornata che dovrebbe essere dedicata alla riflessione oggi le ceneri a inizio la quaresima il periodo di 45 di 40 giorni che precede la pasqua è un periodo di penitenza per i cristiani in cui si pratica il digiuno e si intraprende il cammino non verso la morte ma verso la risurrezione oggi nelle chiese si ricevono le ceneri in segno di penitenza da oggi non si canta più nelle celebrazioni religiose né l'alleluia né si recita il gloria dunque delle iniziative importanti che cambiano un po' il modo di relazionarsi appunto con Dio e veniamo ora alle previsioni del tempo una situazione che migliora rispetto appunto il vento e la pioggia dei giorni scorsi giornata stabile con cieli sereni nelle marche o al poco più nuvolosi a causa di nubi alte di passaggio le massime sono per fortuna in rialzo fino a 10-11 gradi erano tra i 6 e 7 nella giornata di ieri i venti spireranno sulle coste da una direzione di nord e nord-est sull'interno invece debole da ovest e sud-ovest apriamo il giornale il Corriere Adriatico questa mattina sulla pagina di Fano aiuti materiali al popolo ucraino vi avevo anticipato appunto la notizia del giorno in tutte le località si stanno cercando si stanno raccogliendo aiuti per aiutare i profughi per aiutare la popolazione in fuga dalle bombe in Ucraina aiuti materiali al popolo ucraino ora si attivano diocesi e comune sono state aperte due linee istituzionali si raccolgono medicinali e si cercano alloggi il sindaco serve il sostegno di tutti il sindaco Massimo Seri innanzitutto oggi in prefettura alle 10 e 30 ci sarà un vertice con i referenti di comuni protezione civile strutture di accoglienza e associazioni di volontariato è convocato appunto in prefettura per gestire l'arrivo dei profughi che arriveranno anche nel nostro territorio dall'Ucraina vediamo ancora un trafiletto ecco così l'amministrazione comunale si è attivata con il programma l'Ucraina ci chiama costituendo nel pomeriggio di ieri un tavolo con l'assessorato al welfare di comunità ci sono poi anche altre componenti la diocesi l'associazione san paterniano che gestisce la mensa la croce rossa Italia di Fano la protezione civile con il CB Club Mattei oltre all'assessorato presieduto da Dimitri Tinti che è quello del welfare di comunità e poi l'appello del sindaco ringrazio detto tutti coloro che parteciperanno alla grande macchina della solidarietà ringrazio chi vorrà donare mi sento di dire che mai come oggi serve l'aiuto e il sostegno di tutti Fano risponde presente e tende le mani al popolo ucraino che ha bisogno di noi e che ha bisogno ovviamente di tutto a fondo pagina vediamo una polemica che riguarda la guardia medica è il consigliere della Lega Luca Serfilippi che risponde alle dichiarazioni della consigliera regionale Michela Vitri faciloneria aggressiva risponde il consigliere della Lega il PD chiede scusa perché la carenza di medici secondo Luca Serfilippi che si verifica attualmente che quindi restringe la guardia medica sarebbe anche colpa del Partito Democratico per quanto riguarda le sue passate gestioni della sanità teniamo la pagina sulle Corriere Adriatico e vediamo un articolo che riguarda la cappella musicale del Duomo ieri la cappella questo gruppo di circa 50-45 elementi che fanno parte appunto di questo coro che presiede alle celebrazioni liturgiche che si svolgono in Cattedrale a Fano ha evidenziato la sua attività un'intensa attività sono moltissimi i concerti che si svolgeranno durante l'anno sono molte quelli che riguarderanno le celebrazioni religiose ma ci sono anche poi dei concerti veri e propri una scoperta importante fatta dal gruppo è quella di un musicista del Settecento il pesarese Giuseppe Ripini che lavorò a Pergola ma lavorò anche molto a Fano scrisse molti brani di musica che sono stati riscoperti nell'archivio diocesano sono stati riproposti ricopiati e quindi costituiranno un po' anche l'oggetto di un concerto che si svolgerà durante l'anno in realtà i concerti sono concerti d'organo sono quattro che caratterizzano l'attività della cappella musicale vediamo che il 27 marzo 27 marzo scusate si esibirà Giovanni Maria Perrucci tra l'altro è il direttore dei concerti d'organo di Santa Maria Nuova il 15 agosto sarà la volta di Stefano Baldelli che è il direttore appunto della cappella stessa il primo novembre sarà Alessandro Buffone e l'11 dicembre Massimo Berardi ad esibirsi e poi su questo articolo ci sono evidenziate anche le altre iniziative quindi un gruppo che rende ancora più suggestiva l'atmosfera e il raccoglimento che si verifica durante le cerimonie religiose qui abbiamo la fotografia invece del vice sindaco Cristian Fanesi che indica la realizzazione delle scogliere le promesse del sindaco ai concessionari di spiaggia per il litorale a sud di Fano e ieri c'è stata una riunione sopra luogo per le scogliere del litorale sud si è concluso con due impegni da parte del vice sindaco Fanesi alla delegazione degli operatori balneari è stato assicurato che il secondo stralcio dei lavori tra Torrette e Ponte Sasso inizierà ai primi del prossimo mese e che sarà avviata la progettazione del terzo stralcio insomma lavori che verranno eseguiti nei prossimi mesi qui invece vediamo sempre in apertura sulla terza pagina del Corriere Adriatico la fine del Carnevale di Fano l'ultimo giorno di Carnevale che si conclude tradizionalmente con il rogo in piazza il rogo del pupo in realtà quest'anno è stato un rogo un po' particolare perché è stato un rogo finto gli organizzatori non hanno ricevuto il permesso di accendere le fiamme in quanto intorno alle 14 di ieri era scoppiata l'allerta meteo da Ancona e si temevano forti raffiche di vento quindi le fiamme in piazza con il vento non era il caso di accenderle in realtà il vento poi non c'è stato ma il rogo è stato ugualmente finto si sono accesi bagliori di luce che hanno simulato il fuoco e sono poi fatti scoppiare dei candelotti fumogeni per simulare appunto il fumo il fuoco in piazza non è stato autorizzato per il rischio vento derogato comunque il limite di 500 persone perché ieri veramente il carnevale a Fano l'ultimo giorno ha tirato tantissime famiglie con i loro bambini e i bambini hanno riscoperto anche il piacere di rincorrersi e tirarsi i coriandoli l'atteggiamento più semplice più spontaneo più gioioso che può caratterizzare il carnevale porto futuro tante le idee degli alunni contenuti e decorazioni promossi da carnage e umanesimo artificiale per questa iniziativa che dovrebbe coinvolgere anche i bambini nel porto di Fano andiamo a Fossombrone a Fossombrone si è discusso sull'istituzione del presidente del consiglio comunale il presidente figura superfora per l'opposizione e per protesta tre consiglieri abbandonano l'aula Londèi Manocchi e Luzzi motivano la loro opposizione non c'era unanimità questa figura istituzionale secondo l'opposizione è superfora a Fossombrone basta il sindaco a dirigere i lavori il sindaco Sebastianelli invece per quanto riguarda terre roveresche è pronto a ricondidarsi il comune di terre roveresche che è stato istituito cinque anni fa dalla fusione dei comuni di Barchi Orciano Piagge e San Giorgio di Pesaro è ormai arrivato al termine della prima tornata amministrativa da una parte Antonio Sebastianelli che ha retto le sorti del nuovo comune insieme al vice Claudio Patregnani ritenta la propria candidatura dall'altra poi ci sono altri concorrenti per esempio c'è Maurizio Cionna di Piagge in veste di capogruppo dell'opposizione e poi c'è Stefano Bacchiocchi di Euciano rimasto fuori dal consiglio comunale ma più che mai intenzionato a tornarci insomma ci sono diversi concorrenti e si aprono un po' i fuochi si aprono le contese per quanto riguarda le prossime elezioni a Mondolfo nascerà il centro prelievi e la promessa del sindaco Barbieri a Mondolfo si è tenuta l'assemblea annuale dell'Avis che ha rinnovato il direttivo nel 2021 sono state compiute 787 donazioni e voglio ricordare colui che è stato l'intitolatore della sezione Avis di Mondolfo ovvero il dottor Guido Tonnini un dottore un medico fanese che ha lavorato tanto a Mondolfo ed è stato veramente un personaggio carismatico non solo dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano un'associazione ora quella dell'Avis di Mondolfo che conta oltre 400 iscritti e che nell'anno appena trascorso ha effettuato 787 donazioni di cui 511 di sangue intero e di 275 di plasma A San Costanzo ci sono i luoghi dell'altrove presentato il nuovo brand turistico il sindaco due anni di lavoro una iniziativa appunto di carattere promozionale vediamo scusate ma mi si è caduto il microfono eccolo qua vediamo anche la pagina di Senigallia ripartiti i lavori sulle lungomare Mameli da Vinci si valutano nuove zone di sosta al Cernini invece nelle prossime settimane scatterà il cantiere per ripristinare il doppio senso di marcia l'assessore Regini a Marzocca per ora non si prolunga la pista ciclabile a precisare poi vediamo ancora sulla pagina di Senigallia un articolo che riguarda la sanità l'area covid va verso lo smantellamento a causa della diminuzione dell'aggressività della pandemia centro vaccini aperto solo un pomeriggio 14 posti letto potrebbero non essere più usati da venerdì prossimo il personale tornerà nei rispettivi parti e questa è una buona notizia vediamo sulla pagina di Pesaro del Corriere Adriatico si parla del trasporto pubblico dell'Ami carburanti prezzi alle stelle però sul bus il ticket è stabile Benedetti il direttore evidenzia la crescita delle spese appunto della società e la drastica riduzione degli introiti ciò nonostante comunque si investirà sono in arrivo 20 nuovi mezzi di linea i tavoli tecnici aperti in regione diano però risposte più celebri ha detto il direttore insomma si aspetta anche una collaborazione più reale più fattiva da parte delle istituzioni e volevo farvi vedere anche come i prezzi ma voi lo sapete come i prezzi del gasolio e del metano sono aumentati in quest'ultimo periodo il prezzo del 2021 per il trasporto pubblico era di 1,09 euro al litro pari a un consumo di 2.280 virgola 404 nel 2022 è aumentato a 1,24 il metano invece da 0 a 22 è salito a 0,31 insomma sono aumenti considerevoli ancora sul corriere adriatico vediamo gli articoli che riguardano la raccolta di aiuti per le popolazioni ucraine in fuga generosità verso l'Ucraina gli ambulanti fanno centro e sono gli stessi ambulanti quelli che frequentano i mercati di tutti i giorni che si fanno solidali verso i profughi degli spazi del mercato sono state raccolte coperte indumenti contro il freddo e cose per i bimbi la protezione civile ha messo a disposizione un camion per trasportare il materiale a destinazione arrivano piccoli profughi e i pediatri del territorio si mobilitano chiedono però le regole per poterli curare la direttrice esposto molti febbricitanti per il lungo viaggio i bambini che affrontano un viaggio molto lungo in condizioni precarie dall'Ucraina all'Italia e poi vanno sottoposti anche a tampone perché oltre la guerra oltre i bombardamenti c'è anche l'epidemia la pandemia che sta sempre in agguato denuncia l'ex per minacce stalking poi ritira tutto ma l'indagine però prosegue d'ufficio dubbi sulla spontaneità del gesto della donna lui comunque non ha il diritto di avvicinarla insomma si tratta di un uomo che ha minacciato di uccidere la donna e la madre di lei se lo avesse denunciato è il caso di un quarantenne pugliese accusato di atti persecutori e violazione di domicilio ieri si è svolta l'udienza di fronte al tribunale e l'avvocato ha chiesto un supplemento di indagine per ascoltare nuovamente la donna che dopo la denuncia aveva presentato però il ritiro della querera insomma ci aveva ripensato in questo articolo invece si parla della protesta dei residenti di Santa Veneranda contro il casellino che dovrebbe essere realizzato nella loro frazione i residenti non si arrendono dicono che qui si abbatterà un tornado di traffico quindi vogliono invitano anche stimolano il sindaco a spostare la realizzazione di questa infrastruttura da un'altra parte magari lontano dal centro abitato il casellino va spostato secondo questi ultimi ancora sanità sul corriere adriatico questa volta interviene il dottor Francesco Montesi un medico di base fanese responsabile sindacale della categoria che dice adesso che la pandemia si sta attenuando non dimentichiamo i vecchi problemi i vecchi problemi che sono sempre presenti che risolgono un fascicolo sanitario finanziato da dieci anni non funziona a retratezza anche per quanto riguarda l'informatizzazione insomma al distretto si scrive ancora con la penna e spesso la grafia è illegibile ci sono diversi problemi risolti il problema per esempio dei tirocinanti che non possono effettuare la continuità assistenziale ancora nessuna integrazione tra la sanità ospedaliera e quella del territorio non dimentichiamo i vecchi problemi sono sempre presenti e devono essere risolti sulla pagina della Valle Foglia comunità energetica per i cittadini fotovoltaico su municipio o teatro una mozione dei 5 stelle approvata sulla scia sta creando novità per quanto riguarda il rifornimento delle fonti energetiche a Monte Labate e poi ancora sulla pagina di Urbino più integrazione e meno ordinanze c'è un problema sociale da risolvere per Federica Titas che è presidente degli studenti UniUrb mancano i luoghi di aggregazione ha dichiarato la rappresentante basta scaricare colpe su di noi e come si può migliorare il futuro della città vorremmo detto tornare in presenza avere spazi per lo studio e lo svago è un rapporto più stretto tra comune e università queste le richieste appunto di UniUrb e veniamo ora alla pagina di Fano sul resto del Carlino vediamo come l'apertura è dedicata alle iniziative di solidarietà in favore della Ucraina scatoloni per l'Ucraina al Don Orione intanto si cercano anche alloggi per ospitare i profughi l'ipotesi è allestire Villa San Biagio nelle colline di Gimarra ma c'è anche un monito un monito che viene da Don Sandro Mesina attenzione a non fare migranti di serie A e serie B come rischiano di essere gli africani gli africani sono da tempo una categoria che merita aiuto ugualmente come gli ucraini e quindi non dimentichiamo anche chi da molto tempo è presente nel nostro territorio anche in questo articolo di Spalla si parla della cappella musicale del Duomo canta i suoni delle pietre questo è il titolo del programma che è stato annunciato nella giornata di ieri e qui il problema della guardia medica sappiamo come affano a Mandolfo la guardia medica è stata sospesa a parte i fine settimana ieri come preannunciato è comparso il cartello che annuncia la soppressione del servizio nei giorni feriali intanto i sindacati strappano un accordo con la regione ma però insomma il problema rimane la guardia medica rimane chiusa almeno per tutto il mese di marzo a fondo pagina vediamo invece la fine del carnevale in piazza 20 settembre a Fano dopo il covid ci si mette anche il vento il rogo del pupo si fa per finta per fortuna comunque la piazza era ugualmente piena e lo spettacolo non è mancato bello anche il carro realizzato dagli studenti del liceo artistico a Polloni di Fano un carro che si ispira a Dante al quinto canto del Purgatorio dove appunto è stato posto Jacopo del Cassero il personaggio fanese e qui vediamo appunto la collina che si inerpica verso il cielo sono i gironi del Purgatorio dove poi insomma invece dell'Empirio abbiamo l'arco d'Augusto insomma così un'iniziativa un emblema promozionale per la nostra città comunque un bellissimo un bellissimo carro archivio storico e vecchio lavatoio a pezzi e una denuncia di Margherita Mencoboni che ha raccolto anche le proteste del dottor Paolo Vitali a San Costanzo vedete come è ridotto il vecchio lavatoio della città e poi si parla anche dell'archivio storico cartaceo di San Costanzo dove insomma la situazione è piuttosto precaria a causa di infiltrazioni d'acqua e si spera che i documenti non ne abbiano risentito lo stradario a Mondolfo è maschilista poche sono le vie intitolate alle donne e che succede? succede che in previsione dell'8 marzo la festa delle donne insomma c'è qualcuno che insorge in questo caso sono i consiglieri Ceccarini e Mancini che per l'8 marzo attraverso la presentazione di un libro evidenziano il problema attenzione alle truffe alle truffe nei confronti degli anziani spillano 70 mila euro a un anziano col trucco dell'eredità sospesa si tratta di una 59enne di origini campane e di una 41enne fanese che hanno infierito a livello appunto truffaldino nei confronti di un 75enne del posto gli hanno spillato 70 mila euro una cifra veramente molto grande insomma molto importante a Urbino il comune allunga la lista dei beni da vendere il sindaco ci libereremo della comproprietà di un terreno a Fermignano dobbiamo dar via la scuola di Cavagnino è faticiente ha dichiarato l'assessore Maffei intanto per l'IRPEF si conferma la vecchia addizionale non ci sono dunque aumenti per quanto riguarda la tassazione del comune sulla pagina di Pesaro Ucraina tre famiglie di profughi in città mamma con due bambini ospitata da pesaresi si stanno concretizzando proprio questi aiuti e in questo box a centropagina vediamo come si stanno attivando gli ambulanti che donano due camion di coperte abiti pesanti guanti e sciarpe perché anche l'inverno infierisce sulla popolazione N24 per l'esordio del Novavax più tranquilli con questo vaccino viaggio al Codma di Fano dove ieri sono iniziate le prime somministrazioni in provincia questo è realizzato con una metodologia tradizionale per noi e meglio e finalmente il Green Pass hanno dichiarato alcuni che non si erano mai vaccinati il Novavax rassicura chi ha atteso finora per vaccinarsi contro il Covid e ieri mattina al Codma di Fano dove erano disponibili le prime dosi del nuovo vaccino a base proteica si sono vaccinati per la prima volta in 24 in totale tra prime e terze dosi del centro vaccinale fanese nella mattinata di ieri sono state effettuate 96 somministrazioni Covid ora i ricoverati sono solo 31 il San Salvatore allarga gli altri reparti dal 9 marzo la neurochirurgia torna nella sua piena operatività insomma si ricerca si torna un po' al periodo pre-Covid con 18 posti letto nella palazzina A del San Salvatore mentre l'ortopedia ne recupera 29 e il 14 marzo prossimo sarà pronta la nuova chirurgia con 35 sedute passiamo ora allo sport e vediamo come la visse ha rinnovato la sua fiducia a Gavazzi per Gucci la stagione invece è finita la frattura scomposta alla clavicola a posto fine appunto alla sua attività e il giocatore sarà operato nella giornata di oggi invece per Gavazzi il contratto è stato prolungato fino al 2025 al capitano che chiuderà la sua carriera a Pesaro quindi nuova fiducia nuova speranza per un risultato sempre molto molto positivo che cosa accade invece per l'Alma di Fano c'è il Castelnuovo in campo infatti si gioca oggi alle 14.30 al Mancini dove si recupera la diciannovesima giornata contro una squadra che precede i Granata di un punto quindi è una partita molto molto interessante per la salvezza Zanolla e Zanni è ok Fano in corsia di sorpasso magari superando questa squadra si starebbe un pochino più tranquilli ma in realtà sempre la situazione è precaria vediamo anche lo sport sul corriere adriatico Gavazzi si lega alla Vis Pesaro fino al 2025 lo vediamo qui il capitano con i suoi procuratori dopo la firma del contratto il capitano ha convinto la società a rinnovargli il contratto e una pedina di sicuro affidamento nella squadra su cui puntare il Fano vuole battere un colpo invece con il Castelnuovo Vomano un recupero che può essere il primo passo alla rimonta della salvezza insomma facciamo il tifo per questa squadra che cerca appunto di restare almeno in serie D era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 e come tutti i giorni vi invito a guardare Fano TV questa sera alle 20 e 30 quando le notizie del giorno saranno diramate con occhio la notizia il TG appunto della TV questo è tutto a risentirci buona giornata grazie a tutti